Buongiorno a tutti, allora una breve premessa. In questi giorni ho ascoltato con molta attenzione gli interventi dei colleghi e mi ha colpito la coerenza di fondo di tutti i lavori presentati e quindi la sorpresa di ritrovare questi temi anche del mio intervento. Dopo una brevissima scarica narcisistica ho capito subito che non si trattava di un episodio di sincronicità ma era il frutto del grande lavoro di costruzione, intuizione, passione e scientificità della dottoressa Di Renzo e del dottor Bianchi di Castelbianco. Qualità da loro profuse non solamente nella psicoterapia con i bambini e gli adolescenti e nella diffusione delle conoscenze scientifiche in questo campo ma soprattutto nell'impegno costante nella formazione di noi operatori e quello che avete ascoltato e visto in questo convegno è il risultato più evidente. Grazie a Magda e grazie a Federico. Leggo per evitare commozioni. Il mio contributo è una riflessione e un'amplificazione sui temi generali che possono interferire nei processi di apprendimento del bambino con una panoramica che pone come focus principale l'intervento psicologico con i genitori. Sono molti gli anni trascorsi a lavorare all'istituto di ortofonologia quando ancora non si chiamava Ido ma semplicemente istituto di ortofonologia, una vecchia dizione che ci ricorda la sempre attuale attenzione che tutti noi dedichiamo al linguaggio e alla relazione. La mia collaborazione con l'istituto è iniziata nel 1990 e da allora è sempre continuata in interrottamente fra impegni clinici, didattici e scientifici. Il primo incarico clinico è stato proprio quello di dedicarmi prevalentemente al lavoro con i genitori dei quali avevamo i figli in psicoterapia. Non è facile riassumere in poche parole i cambiamenti osservati in questo quarto di secolo con i genitori, ma un principio fondamentale ci ha sempre guidato nel lavoro clinico. Non possiamo chiedere a un bambino di andare oltre i limiti che i suoi stessi genitori gli impongono, seppur in assoluta buona fede e con tutto l'affetto possibile. Questo principio ricorda quello che affermava Carl Gustav Jung sulle nevrosi dello psicoterapeuta. La presenza della nevrosi nel terapeuta è una contraddizione in termini, egli non potrà mai portare un paziente più in là di dove è arrivato lui stesso. Su questo si basa l'idea del cancelling psicodinamico con i genitori, iniziata qui a Lido dal secolo scorso e oggi sempre più attuale. Impegnare il genitore in una riflessione su tematiche evolutive ed educative al fine di condividere dei cambiamenti all'interno del rapporto genitore-bambino e ridefinire il ruolo materno e il ruolo paterno nella prospettiva di un dialogo propositivo nella gestione del figlio. In poche parole un modello di genitorialità attiva che restituisce alla madre, al padre il senso di una progettualità familiare. Il termine cancelling dall'inglese to cancel consigliare, consultarsi è come lo definisce Umberto Calimberti nel suo dizionario di psicologia, un'azione di sostegno terapeutico alla decisione allo scopo di creare le condizioni per un'autonomia decisionale, attraverso la considerazione dei fattori coscienti come gli interessi, i gusti, le aspirazioni autonomiche e il prestigio sociale e le inclinazioni profonde e inconsce che rinviano ai bisogni affettivi di fondo e ai meccanismi di adattamento che sono alla base delle dinamiche personali e del modo di esistere dell'individuo. Ho riportato questa lunga citazione per sottolineare la nostra condivisione nei suoi principi di fondo e la coerente applicazione al modo di intendere il cancelling psicodinamico. Il nostro intervento non è mirato a condizionare o addestrare il genitore, nell'ottica della creazione del genitore perfetto, una sorta di super genitore, ma è proprio, come recitava la citazione, un'azione di sostegno terapeutico per creare le condizioni per un'autonomia decisionale, la sola che a mio avviso può garantire nel tempo la continuità della mission genitoriale. Inoltre si parla di fattori coscienti da una parte e inclinazioni profonde inconsce dall'altra parte. Con la complementarietà di queste componenti siamo sempre costretti a fare i conti ed è la ragione principale perché questo intervento sia realizzato e sostenuto da professionisti, cioè da psicologi e ancor meglio da psicoterapeuti. In questa ottica è indispensabile che ogni cancelling sia individualizzato e diverso dagli altri, così come lo sono ogni bambino, ogni madre, ogni padre. Ognuno con la propria storia, che se per il bambino è un work in progress, per ciascun genitore è una storia di lunga durata, sia in senso sincronico, ma soprattutto in quello diacronico. Nello svolgere il suo ruolo, il genitore si ritrova a indagare i motivi della propria scelta di coppia e a ripercorrere la sua infanzia perché là dove non c'è riflessione sopperisce l'automatismo della memoria che frequentemente ci pone nella continuazione inconsapevole di atti educativi, ripetizione di ciò che abbiamo vissuto da piccoli. Oppure è la rabbia a guidare i nostri intenti, fare l'opposto di quello che abbiamo subito e che ci ha fatto soffrire nella nostra infanzia e giovinezza. Per arrivare a cogliere la delicatezza di questi momenti è necessario innanzitutto porsi in una posizione di ascolto della coppia genitoriale. Senza pregiudizi o quelpevolizzazioni, solamente dopo sarà possibile fermarsi a riflettere e aprire al dialogo e alla consapevolezza, attraverso la rilettura e la riflessione sui temi educativi portati dai genitori stessi. La forza del nostro lavoro a Lido è quella di un progetto integrato di intervento sul bambino, comprendente anche la scuola e il suo pediatra, come abbiamo sentito, e sulla coppia genitoriale. Al lavoro specifico con il bambino si affianca quello del cancelling psicodinamico con i genitori, che oltre ai temi già trattati si arracchisce del lavoro di equip degli operatori, attraverso l'analisi dei comportamenti del bambino che si riflettono specularmente nel lavoro con i genitori. Per fare solamente un esempio, basti pensare al bambino con difficoltà di regolazione dei propri stati emotivi, recalcitrante al rispetto degli altri e delle regole, che pone in atto comportamenti provocatori e a volte distruttivi. Dall'altra parte ci troviamo di fronte a genitori avviliti, demotivati, che oscillano tra sentimenti di delusione e rabbia, spesso orientati all'inevitabilità della loro situazione familiare. La stanza dove noi lavoriamo è per questa piena di persone reali e immaginarie, dove queste ultime non sono di minore forza e importanza delle prime. Ci confrontiamo e ci scontriamo con fantasmi genitoriali, con figli immaginari, con aspettative e deluse, con desideri irrealizzati. È necessario per questo dare ascolto a tutti i personaggi della scena familiare e riportare dialogo e riflessione fra le parti. Altrimenti, tutte queste tematiche familiari e generazionali rischiano di interferire profondamente con la vita emotiva e relazionale del bambino, determinando in modo apparentemente indiretto fallimenti scolastici e negli apprendimenti, con richieste di intervento che potrebbero focalizzarsi più sul sintomo che non sulle cause effettive del problema. Carl Gustav Jung, nel lontano 1927, nella prefazione al libro di Francis Wicks, Il mondo psichico dell'infanzia, affermava Ciò che di norma influisce di più sul bambino a livello psichico è quella vita che i genitori non hanno vissuto, quel pezzo di vita che eventualmente avrebbe anche potuto essere vissuto se certi pretesti più o meno sottili non l'avessero impedito. Si tratta di un aspetto della vita a cui, per dirla chiaramente, ci si è sottratti magari con una pia menzogna, da qui si sviluppano i germi più virulenti. A questo determinismo psichico non ci sarebbe scampo se non fosse che nella pagina successiva sempre Jung aggiunge La vera individualità psichica del bambino è un novum rispetto ai genitori e non si può dedurre dalla loro psiche. Quindi quasi un secolo fa Jung aveva intuito e sintetizzato in poche righe quelli che saranno gli sviluppi della moderna concezione dell'individuo. La costellazione familiare vive di aspettative e frustrazioni che si tramandano di generazione in generazione, ma allo stesso tempo trova nel bambino un unicum, un novum che trae forza dalla sua individualità. A volte mi chiedono come stanno i genitori di oggi rispetto al passato. I genitori di oggi sono soli. Negli ultimi decenni sempre più la famiglia si è andata nuclearizzando, perdendo quel contesto parentale e sociale che frequentemente nel bene o nel male rappresentava una sorta di continuità nella trasmissione di una cultura delle relazioni intra ed extra familiari. Si viveva a contatto con fratelli e sorelle, a volte anche di cugini, con la presenza in casa di tre generazioni o addirittura quattro contemporaneamente e la possibilità di osservare gli adulti a confronto tra loro, ma anche i coetanei o i fratelli minori o maggiori a confronto fra loro e con gli adulti. Una serie di esperienze di relazione intergenerazionale che offrivano un panorama di comportamenti e descelte e discelte sui quali potersi fermare, formare e riflettere. La classica famiglia moderna con un figlio unico, spesso nato da genitori non proprio giovanissimi, con nonni altrettanto anziani e non sempre in condizioni di salute ottimale, determina una sorta di isolamento del nucleo familiare costretto a ricorrere spesso a diverse forme di intrattenimento extra familiare del figlio unico, quale modalità di impiego quantitativo del tempo a scapito di una presenza mediata dagli affetti e da persone significative. Non ultimi le preoccupazioni economiche che scostringono sempre di più i genitori a trascorrere troppo tempo fuori di casa e a ritornarci stanchi e frustrati, sentendo il ruolo genitoriale come una sorta di ulteriore carico lavorativo al quale si affiancano sensi di colpa per l'assenza e i rischi di eccessive compensazioni materiali o cedimenti educativi. Un grido di allarme ci arriva anche dalla scuola. Quella che una volta era una situazione di eccezionalità all'interno della classe, che l'insegnante era in grado di gestire con le sue capacità ed esperienza, si è trasformata sempre più in una situazione all'interno della quale i casi difficili sono in costante aumento. Di conseguenza alla debolezza della famiglia nucleare si aggiunge quella degli insegnanti sempre più in difficoltà a gestire classi numerose e con problematiche individuali diversificate e complesse. In ultimo accenerei a bambini di oggi, i cosiddetti nativi digitali, nati e cresciuti in una società multimediale e informatizzata che si muovono naturalmente all'interno di questa tecnologia, con una capacità e semplicità spesso invidiata dagli stessi genitori. Una capacità indiscussa rispetto a una buona parte della popolazione adulta, ma probabilmente limitata nelle capacità critiche di valutare le fonti informative, le conseguenze del proprio operato nel web e i rischi a esso connessi e gli eventuali scopi commerciali o devianti di chi si propone con situazioni allettanti. Come tutti gli strumenti, il web richiede una certa educazione alla sua utilizzazione. Ma qui ci troviamo di fronte a un paradosso. Bambini e giovani hanno acquisito una conoscenza e capacità di muoversi all'interno del web maggiore degli adulti che li hanno generati, rendendo a volte inverosimile il binomio età-esperienza. Non rimaniamo passivi di fronte a tutto ciò. Mettiamo in atto una genitorialità attiva che ci veda protagonisti anche nell'acquisizione di queste conoscenze, da trasformare nelle giuste competenze educative. Abbiamo molto da insegnare. Questi sono i genitori e i bambini che incontriamo nelle stanze di terapia. Sostenere i genitori in una nuova visione del bambino significa porsi in relazione con queste problematiche e sviluppare la consapevolezza di un ruolo attivo del genitore nell'educazione del proprio figlio, al fine di limitare l'influenza di fattori intra ed extra familiari nei processi di socializzazione e apprendimento del bambino. Educazione, educare, educare, educere, portar fuori, tirar fuori. Nel vocabolario etimologico della lingua italiana di Ottorino Pianigiani del 1907, così si legge alla voce ducare, aiutare con opportuna disciplina a mettere in atto, a svolgere le buone inclinazioni dell'animo, le potenze della mente, e a combattere le inclinazioni non buone, il condur fuori l'uomo dai difetti della rozza natura, instillando abiti di moralità e di buona creanza. Qualcosa di diverso, ma non del tutto di simile, dalla maieutica socratica, che attraverso domande e risposte portava l'interlocutore a ricercare dentro di sé la verità, determinandola in maniera il più possibile autonoma. Il termine maieutica deriva dal greco maia, che significa mamma, levatrice, e Socrate era figlio di una levatrice. Maia nella mitologia classica è madre di Ermes, Mercurio, avuto da Zeus, e nella mitologia indoraniana è la dea madre, sorta dalla divinità primigenia e a sua volta madre della Trimurti e del dio dell'amore, Kamadewa. Entrambe le figure di maia in queste culture sono dee che ci portano in una sfera mitologica di alta dignità femminile. E questa è la dignità che ci piacerebbe riscoprire nelle madri dei nostri bambini, una forza e una decisionalità che la natura ha donato loro e che solamente una cultura violenta e conservatrice rischia di offuscare. Una madre consapevole del proprio ruolo materno è un grande alleato del nostro lavoro, è in grado di unire la sensibilità, la sicurezza, la dolcezza, la farmezza, facendo sentire il bambino protetto e proiettato verso il futuro. Passare progressivamente dall'educare, dal condur fuori, al far nascere del bambino quel desiderio di cercare dentro di sé la verità, facendogli vivere come una conquista autonoma che lo renderà un adulto sicuro e responsabile. Qualcuno si starà chiedendo, e il padre? Dobbiamo attendere come si pensava una volta che entri nell'educazione del figlio solamente quando questi sarà in grado di formulare un pensiero, oppure quando sarà un adolescente, quando dovrà prendere la patente di guida o entrare nel mondo del lavoro? Padre si diventa nel momento in cui si pensa di avere un figlio, quando lo si immagina insieme al proprio partner, durante la gravidanza, il parto e via via nelle diverse fasi della crescita e soprattutto non si smette mai di esserlo. Non si può diventare amici e compagnoni dei propri figli. C'è il momento del gioco, della condivisione, degli affetti, ma è necessario lasciare sempre integra la figura di riferimento. Una figura autorevole, in grado di orientare quando è necessario e di scusarsi quando sbaglia, ma sempre un punto di riferimento e di esempio. Diceva sempre Jung, i bei discorsi assennati non contano, conta soltanto l'agire, la vita reale dei genitori. E ricorda Winnicott, divertitevi a scoprire i vari aspetti della personalità di vostro figlio, perché in questo modo lo aiuterete a crescere. Partecipate con gioia sui giochi, senza manifestare impazienza o agitazione. Più di qualsiasi altro comportamento sono i giochi che dimostrano lo sviluppo di una vita interiore del bambino. Se risponderete con piacere ai suoi inviti a giocare, contribuerete al suo arricchimento interiore e i giochi inventati insieme diverranno la parte migliore della vostra relazione. Nel lavoro che svolgo con adolescenti e giovani adulti è inespettatamente molto presente il tema paterno e soprattutto dell'assenza paterna o della distrazione paterna o della delusione nei confronti della figura del padre. Ma tutto questo non si verifica nell'adolescenza o d'oltre, ma quando si è bambini, è lì che si sente il vuoto e il desiderio di una figura paterna. Quando tornavo mio padre e sentivo la voce, dimenticavo i miei giochi e correvo lì, mi nascondevo nell'ombra del grande giardino e lo sfidavo a ceccarmi. Io sono qui. È la strofa iniziale di una canzone di New Trolls del 1978, intitolata a quella carezza della sera, che si presta molto bene a fare decollegamento a questi due punti di riflessione. L'assenza della figura paterna e la separazione dei genitori. Quest'ultima è una realtà sempre più frequente nei nostri incontri di cancelling e sempre più si esprime con toni di inadeguatezza. Partiamo da un assunto di fondo. I bambini, nella loro difficoltà a comprendere il comportamento degli adulti, tendono a colpevolizzarsi dei litigi in casa, spesso perché proprio la tensione coniugale li vede vittime degli scontri e di conseguenza possono espressamente esserne indicati come causa o perché casualmente da un loro campriccio sorge un litigio furioso tra madre e padre. Solleviamo i bambini da queste colpe infondate e dannose, assumendoci la responsabilità dei nostri atti. Anche questo significa genitorialità attiva. Anche questo significa intervenire e prevenire fattori di rischio che possono interferire sui processi di apprendimento. Concludo dicendo che il cancelling psicodinamico qui a Lido sostiene i genitori nel ridefinire il ruolo materno e il ruolo paterno nel tentativo di restituire il giusto equilibrio fra autorevolezza e condivisione affettiva, fra dialogo e assertività, fra rispetto di sé e rispetto dell'altro, in una prospettiva che ponga sempre al centro del nostro lavoro l'attenzione al bambino e al suo sano sviluppo. Grazie.